Lentini strage di controllo della polizia al stataccio Chioschi e Bar, denunciato o pregiudicato per evasione. Dopo l'operazione ad alto impatto dei giorni scorsi che ha dato degli importanti risultati, continuano il servizio di controllo del territorio di Lentini, in particolare nel pomeriggio di lunedì e nella mattinata del martedì gli agenti del commissariato di Lentini insieme ai colleghi del reparto di prevenzione e crimine di Catania hanno effettuato un servizio di controllo del territorio di Lentini e Carlentini ponendo particolare attenzione ai luoghi di ritrovo dei più giovani come Chioschi e Bar. Nel complesso sono state identificate 152 persone e controllate 61 veicoli. Nel corso dei servizi inoltre sono state controllate 20 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale una delle quali è stata denunciata per evasione poiché assente al controllo.